Patricia Cori, la bufala. Non avrei voluto intervenire su questo personaggio che sta vendendo libri a più non posso. A quelli che interessati all'argomento, contatti con gli alieni, si lasciano sedurre dalle recensioni o da qualche consiglio in buona fede. Siccome non mi sembra giusto che le persone spendano i loro soldi per delle presunte comunicazioni, espongo il mio pensiero dopo averlo letto. Per me è una boiata pazzesca, come diceva Fantozzi. È una boiata perché i messaggi non sono logici e non tengono in conto le scoperte della scienza. Vi ho trovato una miriade di nonsensi e tante parole romantiche per plagiare gli ignari lettori. Quando parla della terra cava, poi si destreggia in voli pindarici cercando di rimanere collegata alle scoperte dei vari ricercatori. Senza riuscirci a parer mio. Comunque, siete liberi di spendere i vostri soldi come preferite. Costa 14,50 euro.